Vuoi sapere come sto installando ultimamente Windows per tutti quanti i miei clienti, ma soprattutto come tu stesso? Puoi avere Windows esattamente come ti pare, senza bisogno di formattare, senza perdere neanche uno dei tuoi file e soprattutto mantenendo tutti i programmi che hai già installato? E io te lo faccio vedere subito. E quindi, se ti senti pronto, ricominciamo! Disclaimer! I contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va! E finalmente hanno liberato le sante manine del gentiluomo digitale, perché come ben sai il nostro canale è stato sospeso da YouTube per una settimana. Tutto questo per motivi che, francamente, non sono riuscito ancora a comprendere. Vabbè, diciamo che si sarà trattato di un errore dell'algoritmo. Ma proprio a questo proposito ci tengo tantissimo a ringraziare tutti quei membri della community che prontamente hanno messo in atto il piano di emergenza e si sono spostati sul nostro canale secondario, quello che si chiama Il Lato Oscuro. Sai che non lo dico mai, ma è fondamentale, ribadisco, visti questi chiari di luna, essere iscritti ad entrambi i canali. E quindi, da un lato a Gentiluomo Digitale, questo canale qui è dall'altro al lato oscuro. Se non hai i relativi riferimenti, te li lascio qui giù in descrizione, dove troverai, peraltro, anche tutti i riferimenti relativi ai vari strumenti di comunicazione che utilizziamo sul nostro canale. E quindi, banalissimamente, Instagram, il nostro gruppo Telegram, la nostra chat su Telegram, se vogliamo fare due chiacchiere tra amici e poi il nostro forum su cui puoi postare delle richieste di assistenza tecnica e quant'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, dai un'occhiata alla descrizione perché trovi tutto quanto. Ma adesso passiamo subito all'argomento del giorno. Perché recentemente ho scoperto uno strumento che sto testando da circa un mesetto e che mi ha dato grandissime soddisfazioni. Si tratta di uno strumento in grado di migliorare la nostra installazione di Windows, o meglio, lavorare soprattutto nel post-installazione, prima che iniziamo a utilizzare effettivamente i computer, migliorandone le prestazioni in maniera veramente sensibile, ma soprattutto alleggerendolo e facendolo diventare esattamente come vogliamo. Ma il bello di questo strumento è che può essere utilizzato anche dopo aver installato Windows senza nessun problema rispetto agli strumenti precedenti che abbiamo presentato negli altri video e dandoci grandi, grandissime soddisfazioni. E allora, non perdiamo tempo e andiamo a vederlo. E allora andiamo immediatamente a procurarci i nostri ferri del mestiere e lo facciamo aprendo il nostro browser e nel motore di ricerca digitando, come sempre, Gentiluomo Digitale. Ok, effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato, quello relativo al dominio GentiluomoDigitale.it. Facciamo clic per aprire il nostro sito e, una volta aperto, ci porteremo qui in alto, sulla sezione che si chiama Downloads. E scendiamo un pochettino più in basso nella pagina fino ad individuare questo download qui, quello che si chiama Win Script. Potremo scaricarlo facendo clic sul pulsante azzurro File Download e nel caso in cui non riuscissi a trovarlo, niente paura. Ti basterà andare qui in alto sulla lente di ricerca, cliccarci su e nella barra di ricerca digitare Win Script. Effettuiamo la nostra ricerca e il file che stai cercando ti comparirà immediatamente qui in alto. Facciamo clic per andare a scaricarlo e, una volta scaricato, vedrai che ti comparirà qui in alto la possibilità di andare ad aprire la cartella dei download per mezzo di questo pulsantino qui. Premiamolo e chiudiamo la finestra del browser retrostante che non ci serve più. Andiamo immediatamente a fare doppio clic sul file che abbiamo appena scaricato che si chiama winscript-admin.zip. Vedrai che al suo interno ho messo due file. Uno è il file eseguibile di questo programma, quello che si chiama appunto winscript-admin.exe che ci consente di lanciare in maniera portable questa utility. Portable significa che potrai anche metterlo su un pendrive e portarlo su qualsiasi altro computer senza alcun bisogno di installazione. Nel secondo file, quello che si chiama screenshot.zip e che vedremo più tardi, ho messo una serie di screenshot di questo programma con alcune impostazioni che io personalmente consiglio. Come prima cosa quindi selezioniamo entrambi i file e li trasciniamo sul nostro desktop e a questo punto potremo anche chiudere la cartella che non ci serve più. Per lanciare il nostro programma dovremo fare un clic destro sulla sua icona e quindi scegliere la voce esegui come amministratore e proprio questo è il motivo per cui ho chiamato il file winscript-admin perché per funzionare correttamente ha appunto bisogno dei privilegi di amministratore in modo da poter apportare le opportune modifiche al nostro sistema. Clicchiamo quindi con il pulsante destro, scegliamo la voce esegui come amministratore e nella schermata successiva confermiamo con sì di volergli attribuire tutti quanti questi privilegi. Ed eccoci qui nella schermata principale del nostro winscript. Andiamo a vedere che cosa contiene. Sul lato sinistro troviamo le voci principali del nostro menu che sono strumenti che contiene una serie di strumenti preziosissimi per windows e per migliorare la stabilità e l'efficienza del nostro sistema. La voce de bloat che serve proprio a sgonfiare il nostro windows da tutte quelle applicazioni non necessarie che vengono installate di default. La voce privacy che contiene tutte quante le impostazioni per migliorare la privacy dei nostri dispositivi. La voce telemetria che fa parte anch'essa della privacy e che consente di eliminare tutte quelle applicazioni o meglio quelle impostazioni che vanno ad inviare dei dati a microsoft e ad altri siti. La voce gaming che serve a disabilitare alcune opzioni di gaming che possono appesantire le nostre macchine. La voce performance che contiene tutte quante le impostazioni che possono migliorare la velocità e la reattività del nostro dispositivo. La voce varie che contiene un'altra serie di impostazioni molto interessanti. La voce browse apps che ci consente di installare nel nostro sistema una serie quasi infinita di app a nostro piacimento. E infine la voce view script che ci consente di visualizzare lo script che andremo a creare con le nostre impostazioni. Prima di continuare qualche necessaria precisazione su questo programma. Innanzitutto funziona sia su windows 10 che su windows 11. In secondo luogo funziona sia su macchine appena formattate su cui è appunto stato appena installato il sistema operativo che su macchine che già lavorano da un po' su cui sono presenti altri programmi e dati personali. Non verrà rimosso nulla che tu stesso non gli dica di rimuovere. Quindi il suo utilizzo è tranquillissimo e sicurissimo. Io personalmente lo utilizzo su macchine appena formattate per fare in modo che il sistema operativo sia esattamente come serve al mio cliente. E questo è molto meglio rispetto ad utilizzare delle ISO customizzate che hanno un sistema già impostato in precedenza e che magari non consentono di fare determinate operazioni. Ho abbandonato tutti i sistemi precedenti e da circa tre mesi sto formattando e utilizzando questo script sui pc su cui ho appena installato il sistema operativo ma sto anche utilizzando questo script sui pc dei clienti che hanno bisogno semplicemente di rendere più stabile, più veloce oppure più sgonfio il loro sistema. Come puoi vedere le voci all'interno di questo programma sono veramente tantissime. Se dovessimo spiegarle tutte quante in un singolo video penso che non ne usciremmo vivi prima di due tre ore. E allora che cosa ho pensato di fare? Come vedi ho creato una cartella screenshot che trovi all'interno del file zip principale che andrai a scaricare che una volta scompattata magari sul tuo desktop al suo interno conterrà delle linee guida chiamiamole così. Queste sono le opzioni che più frequentemente seleziono nel momento in cui vado ad impostare un pc utilizzando questo programma. Come vedi sono suddivise per le varie voci di menu e ho cercato di coprire più o meno tutte quante le esigenze. Naturalmente non ti suggerisco di impostare tutto quanto esattamente come imposto io però diciamo che può essere un ottimo riferimento. Il mio consiglio comunque resta quello di creare sempre un punto di ripristino. Lo trovi qui nella voce strumenti quando vai ad effettuare le modifiche in maniera tale da poter tornare indietro nel caso in cui una volta apportate le modifiche qualcosa non dovesse essere di tuo gradimento. Il secondo suggerimento è di cercare di capire cosa fa ogni singola voce che io ho selezionato e selezionarla o deselezionarla a seconda dei tuoi gusti. Il terzo suggerimento è se non capisci che cosa fa una determinata voce di evitare di selezionarla. Ok ho appena terminato un'impostazione minimale di questo sistema in cui ad esempio nella voce tools ho creato il punto di ripristino e ho attivato la verifica dell'integrità del sistema nella voce de bloat. Sono andato a rimuovere le applicazioni di terze parti a rimuovere le applicazioni xbox, a disattivare recall e a rimuovere copilot. Nella sezione privacy ho disabilitato il cloud sync, nella sezione telemetria ho disabilitato praticamente tutto, nella sezione gaming ho rimosso solo la game bar, nella sezione performance ho attivato i dns di google, ho attivato l'ultimate performance che serve a migliorare le prestazioni del pc, lo abbiamo visto in un vecchio video e ho disabilitato l'ibernazione. Nella sezione varie sono andato ad attivare il menu classico di windows perché francamente non riesco proprio a farmi andare giù il menu di windows 11, ho attivato la possibilità di terminare i programmi direttamente dal menu contestuale, ho attivato il dark mode e la visualizzazione delle estensioni dei file che trovo estremamente comoda. Nella sezione browse apps ho installato chrome e potrai installare in realtà qualsiasi cosa di qua e arriviamo infine alla sezione view script. In questa sezione metteremo in atto tutte quante le modifiche. Come si fa è semplicissimo, infatti ci basterà cliccare sul pulsante run, attendere il termine dell'operazione seguendola perché qualche volta sarà richiesta la nostra interazione e alla fine di tutto quanto riavviare il nostro dispositivo. Facciamolo insieme! Accettiamo di voler creare il punto di ripristino e ci vediamo tra un po'. Buoni ma adesso ho la gola secca. Va bene, come vedi il processo è terminato, non preoccuparti se si verificano degli errori come è successo anche nel mio caso perché ad esempio non mi ero accorto che avevo già installato google chrome sul mio pc e quindi non è riuscito ad effettuare la sovrinstallazione. Quando arrivi a questo punto puoi semplicemente chiudere tutte quante le finestre aperte e andare a riavviare il tuo sistema. Ok, il nostro sistema si è riavviato e mi dispiace solo non essermi ricordato nel corso del video di fare questa operazione prima di apportare le nostre modifiche. Come vedi infatti una volta aperto il task manager, ovvero la gestione attività, possiamo notare che la nostra CPU è impegnata tra l'1 e il 2%, solo 2,7 giga di memoria sono occupati e l'hard disk è praticamente un disoccupato in cassa integrazione. Una cosa invece molto importante voglio farti notare. Anche dopo il debloat noterai la presenza di diverse icone. Attenzione, non sono programmi installati, infatti se per caso ci andrai a cliccare su vedrai che partirà l'installazione del programma e non si aprirà automaticamente. Quindi il mio consiglio è di cliccare su tutte le icone che non ti servono con il pulsante destro e scegliere invece la voce disinstalla per farle sparire tutte quante. Ed è arrivato per me il momento di pagare un sacco di debiti che ho accumulato nel corso di questa settimana di sospensione e alludo ai debiti di gratitudine nei confronti di molti membri della nostra community che ho diligentemente tuttavia segnato sul mio mitico foglietto. E procedo quindi a ringraziare Giuseppe Melone, Ermanno Morini, Roberto Morra, Gabriele Cadeddu, Raffaele Ponticelli, Augusto Cortesini, Giovanni Sartori, Giordano Michelotto, i gemelli diversi, Conrad Tinkhauser e Conrad Peplonsky, nonché il misteriosissimo G2 che si sono abbonati oppure hanno rinnovato il loro abbonamento alla community dei gentiluomini e quindi da parte mia il benvenuti o il ben rimasti a bordo. Ma dobbiamo ringraziare in modo particolare anche Jimmy Italy e Francesco a Zara che sì si sono abbonati ma attenzione lo hanno fatto in qualità di tattratà distinti gentiluomini e quindi è con vero piacere che mi tolgo il cappello farlocco davanti a voi. Ma non abbiamo finito perché ringraziamo anche Visanet, Thomas2915, Lorenzo Iezza, Galcoide, Pietro Mazza, Bud Fox e Fabrizio Fogagnolo che hanno voluto contribuire per mezzo dei loro generosissimi super grazie alla vita della nostra community e mi resta in tasca un ultimo ringraziamento e cioè quello destinato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima. Iscriviti!